Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo a Salina, domenica, siamo partiti stamattina alle 9.45, cioè alle 9 e alle 10 meno un quarto. Stasera ritorneremo, non so quale ora, però stasera ritorneremo, sono intanto in macchina con mia sorella, stiamo spestando i nostri genitori. E niente, volevo fare un video per avvisarvi, però non mi scordate ovviamente di lasciare like, iscrivetevi al canale e condividete il video. Ciao!